Sto pian piano risolvendo dei piccoli problemi che ho avuto e oggi è il primo giorno che mi aggrego alla squadra e speriamo di continuare. Abbiamo lavorato bene, tanto, e speriamo di ripartire dalla partita prima, non con l'ultima della sosta ma con la prima, perché abbiamo fatto molto bene e quindi speriamo di ripartire da lì. Sicuramente con l'Empoli non è stata una gara alla nostra altezza, quindi c'è stata una serie di problemi e uno tra questi potrebbe essere sicuramente quella mentale. Abbiamo visto adesso che basta perdere una partita e ti risucchiano all'istante, quindi tranquilli sì ma non così sereni. Noi dobbiamo essere tranquilli per le nostre potenzialità, quindi già quello ci deve far stare sereni, però dobbiamo affrontare le partite con il giusto appiglia e non con l'Empoli. Affrontiamo una delle grandi di questo campionato, un organico importante, però abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutti, quindi affronteremo la gara con la giusta importanza. Ci aspettano delle partite molto difficili, come sono state quelle che abbiamo affrontato, però cercheremo di lavorare su partita dopo partita e trarremo poi le conclusioni. Noi in effetti abbiamo, anche in questo inizio di campionato, forse abbiamo faticato più con le nostre dirette concorrenti che con le grandi. Speriamo che prosegue questo cammino perché a questo punto, visto che le prossime 3-4 partite affrontiamo comunque squadre importanti, vediamo se riusciamo a rispondere come abbiamo fatto l'anno scorso. Grazie. 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 Grazie.